In questo video ti spiego perché è totalmente inutile ed anche deleterio cercare di rimorchiare una ragazza su Instagram cliccando like a tantissime foto Se ancora non mi conosci io sono RT e sono un love coach presente sul web corrimorchiadonne.com dal 2008 e la mia missione di vita è quella di aiutare gli uomini a saperci fare di più con le donne se sei interessato a migliorare nell'arte della seduzione vuoi imparare nuove strategie e tecniche comprovate per saperci fare di più con le ragazze sia online che offline allora iscriviti al mio canale e attiva le notifiche per non perderti i prossimi video che pubblico ogni singolo giovedì dedicati alle tematiche riguardanti il mondo della seduzione e il rimorchio delle ragazze devi sapere che l'80% degli uomini approcciano nel modo sbagliato le ragazze su Instagram e non devi mai fare ciò che fa la maggior parte delle persone altrimenti avrai sempre risultati mediocri uno degli errori più comuni che si commette infatti su Instagram è proprio quello di approdare su un profilo di una bella ragazza e cliccare a raffica like su decine e decine di foto con lo scopo di farsi notare e poiché è un errore che commettono l'80% degli uomini su Instagram e conseguentemente per le ragazze è una cosa che si ripete spesso finiscono con il considerare la cosa poco originale questo tipo di approccio non funziona quando una ragazza si ritrova nelle notifiche 50 like da parte della stessa persona la prima cosa che pensa è chi è questo coglione? e se pensa che sei solo un coglione ti va anche bene? potrebbe pensare che sei uno sfigato, un disperato, uno stalker uno che agisce in questo modus operandi con ogni ragazza che incrocia su Instagram la cosa curiosa è che di solito lo sprovveduto di turno va a mettere like solo a quelle foto in cui la ragazza è in costume sottolineando di quanto è interessato solo ed esclusivamente all'aspetto fisico altro errore nella seduzione telegrafare subito molto interesse è una cosa che fa subito abbassare il livello di attrazione nei confronti della ragazza per carità ad una ragazza ricevere un like fa sempre piacere e magari se lo vai a mettere ad una foto in cui non è in costume una foto diversa, una foto particolare dove lei esprime un suo concetto un suo pensiero allora lì puoi fare la differenza ma in realtà non basta un semplice like per rimorchiare una ragazza su Instagram ci sono altre tecniche molto efficaci che dovresti conoscere e che devi approfondire scaricando subito adesso il mio report gratuito con le 7 strategie per rimorchiare con successo una ragazza su Instagram trovi il link per scaricare la guida gratis nella descrizione di questo video se lo stai guardando su YouTube o Facebook o sopra nell'avvio se ti trovi su Instagram se hai qualche domanda da farmi scrivila pure in un commento e sarò felice di risponderti se ti è piaciuto questo video metti like, iscriviti al mio canale, attiva le notifiche e ricordati che non sono qui per fotterti ma sono qui per farti fottere